Ciao a tutti ragazzi, sono MazzeTest ed eccoci in questo nuovo video di Flare Allora, io come avete saputo ho formattato il computer quindi ho aggiornato anche Flare alla nuova versione come ho fatto con Maintest In questa versione non ci sono più i warp e ci sono stati un po' di cambiamenti Adesso ve li farò vedere ma intanto vi faccio vedere che cosa ho fatto Sono entrato in questa stanza che era... beh dopo vi faccio vedere dov'è negli Havergarde, non è quella dell'altra volta Qua c'era uno zombie qua, uno zombie qua forse E poi qua in mezzo in questa zona qua c'era qua lo scheletro mago che potete vedere qua di livello 4 E nel resto c'erano queste 20 zombie, quanti saranno? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici Meno due, quattordici saranno stati una quindicina di zombie Tutti qua in mezzo che appena colpite il primo che si trova più o meno in questa zona qua Vi verranno tutti addosso Sono sopravvissuto soprattutto grazie alla cura e poco altro Comunque il salvataggio non ce l'avevo tenuto Quindi ho dovuto rifare, ripartire da capo ma non ci è voluto molto Adesso ho questo equipaggiamento qua, sono al livello 4 appena salito Ho aumentato i punti offensivi Come vedete qua hanno cambiato anche la grafica Ma adesso ne parleremo tra un attimo Qua c'è uno switch come potete vedere, una leva Che adesso non posso cliccare perché è già stata cliccata Comunque ci cliccate sopra col sinistro come ogni qualsiasi oggetto da raccogliere E si apre questa porta dove troverete uno zombie di livello 4 E questi due libri Io adesso vorrei leggere questi due libri insieme a voi Per non fare troppi progressi senza che mi vediate Questa volta ho attuato la tecnica di attaccare e sconfiggere i nemici senza registrare Perché ho notato che si muore davvero troppo spesso e diventa noioso Qua dietro c'è una porta che ancora non si sa dove conduca Probabilmente dovrò aprirla da un altro livello E condurrà al nostro nemico massimo diciamo Qua c'è anche un trono eccetera eccetera Ah ecco no lo dimenticavo Qua c'era anche uno scheletro guerriero che era situato qua Tra il trono e questo altare Adesso è l'ha accucciato perché l'ho ucciso Allora leggiamo questi due libri Allora Maddox è morto Maddox morì nella piaga del 638 Dopo i tentativi di farlo rivivere magicamente Dopo che i tentativi di farlo rivivere magicamente fallirono Fu sotterrato Nelle profondità dietro il tempio Quindi là dietro ci sarà questo Maddox Ma noi dovevamo sconfiggere il Maddox Non mi ricordo più Quest? Ah ok era da leggere prima l'altro libro Qualcuno dice che il re Maddox si preoccupava Si preoccupò troppo per i paesani Lui non vuole restare in quarantena Dicendo che i paesani non meritavano di morire lasciati da parte Cioè trascurati senza che nessuno si occupasse di loro Quindi comunque sono due libri che non servono molto per l'avanzamento della storia Allora vi faccio vedere com'è cambiato Il menu e le altre cose sono rimaste uguali Questi invece sono leggermente cambiati Iniziamo dal carattere che come vedete è molto più carino Il nome qua e il livello E poi dopo i punti fisico, mentale, offensivo e difensivo Con subito spiegato quello su cui incidono Vita totale e rigenerazione Mana totale e rigenerazione Rigenerazione della vita e rigenerazione del mana Precisione Contro un livello di difesa 1 e contro un livello di difesa 5 E qua c'è schivata contro un offensivo di livello 1 E schivata verso un offensivo di livello 5 Ecco qua forse abbiamo Forse avrei dovuto aumentare un po' la difesa Perché è una schivata del 33% contro uno di livello 1 È abbastanza basso Contro un offensivo di livello 1 È abbastanza basso Perché come potrete vedere Adesso vi faccio vedere Che i nemici sono stati abbastanza potenziati Quindi dice Mano principale Infliggiamo da 2 a 6 danni Mano da distanza Cioè con la fionda da 3 a 7 Percentualità di colpo critico 10% Assorbimento 1 Quello dell'armatura Resistenza al fuoco E resistenza al ghiaccio 0 Così dal meno del personaggio Possiamo subito accedere e vedere rapidamente Le nostre qualità Come siamo preparati per il combattimento Qua l'inventario è rimasto uguale Niente, ho un po' di roba da vendere Poi mi sono riempito di roba sconfiggendo nemici Qua, come potete vedere Non è più diviso in base alle abilità Ma è diviso in modo diverso C'è la physical offense C'è l'offensivo fisico Sì, attacco fisico Difesa fisica Attacco mentale Difesa mentale Magica potremmo dire Anche al posto di mentale Attacco magico Difesa magica E l'attacco fisico Deriva dai punti Di Physical E di offense Quindi qua abbiamo 3 p2 Fa 5 Questo invece deriva da quelli di fisico E quelli di difesa Lo stesso varrà qua Questo è mentale più offensivo E questo è mentale più difensivo Perfetto Perfetto E niente Qui si possono sbloccare pian piano le variabilità Si possono utilizzare pian piano le variabilità In base a quello che avete di punti Quella che prima avevamo sbloccato Il multishot E adesso C'è bisogno del livello 9 Quindi avremo bisogno di 9 punti Tra uno e l'altro Il che vuol dire Almeno uno dei due maxato Portato al livello 5 Uno al 5 L'altro al 4 Almeno Quindi ci vorrà parecchio tempo Perché Ci vorranno almeno altri 4 livelli Trascurando anche il mentale Se per caso trascurassi sia il magico Che il difensivo Ci vorrebbero ancora 4 livelli Ma credo che il prossimo Aumenterò di sicuro il difensivo Perché ne ho Ne ho molto bisogno Sono un po' troppo squishy Diciamo E niente Il Meno qua È rimasto uguale Questa abilità Non so se c'era presente prima È un'abilità di cura Per cui consumando Dei punti di mana Si recupera la vita Io utilizzando poco mana Negli attacchi Finora L'ho usato molto È molto comodo Niente Adesso vi faccio vedere Qua c'è la porta Qua Appunto È la Zona Centrale Dove eravamo andati Dove eravamo andati Noi prima E possiamo vedere Che ci sono Niente Era quella zona Quella che ho appena fatto Adesso Vi farò vedere Che qua hanno aumentato La difficoltà Perché ho messo Un nemico Molto molto complesso Do battere Che vi farò Vedere tra un attimo Ecco Mi preparo Perché è possibile Anche che mi stenda È un minotauro Di livello 8 Che ha tantissima vita E fa tantissimo danno Quindi L'ideale sarebbe Di Bloccarlo Se possibile Con l'uno Ecco Perfetto Cercando Di far si Che non si avvicini Perché se no Infligge davvero Tantissimi danni Questa zona qua Quella che avevamo Tentato di fare L'altra volta Nell'ultimo video È diventata Parecchio più difficile Perché adesso Guardate Se per caso Io provo ad attaccare Uno dei due Visto? Come avete potuto vedere Magari adesso Tornate indietro Col video Per vedere meglio A un certo punto Hanno usato L'attacco multifreccia Anche loro Che infligge Tantissimi danni Mi ha praticamente Tolto metà vita Solo per quello Di conseguenza È molto molto Difficile sconfiggerli Non sono mai riuscito Fino ad ora A tirarne giù Neanche uno dei due E anche tirandone giù Uno dei due Rimane sempre sull'altro Che è abbastanza Complesso Dovattere Quindi questa zona Per ora Credo che La farò In un altro momento Un'altra zona Invece su cui Mi sono concentrato Provandola a fare Bisogna qualche Che erano giottati Il Minotauro È questa zona qua Che è l'accademia Una specie di biblioteca Abbastanza complessa Con molti Molti zombie Alcuni Alcuni scheletri Di livello Abbastanza alto E Cos'è che vuol dire E alcuni Insetti lampeggianti Che danno Non poco Non poco fastidio Questa zona qua Invece È un'altra Zona ancora La zona delle prigioni Che non ho ancora Mai provato Che però Mi ricordo Nell'altra Nell'ultima versione Era abbastanza Complessa Sì infatti Possiamo vedere C'è qualche gente Qua Adesso mi stenderanno Che corsa Adesso sono fregato Perché qua Mi inseguono tutti Questo è epico Sto facendo una corsa Con dietro tutti i nemici Della mappa E non mi hanno neanche ucciso Bene Ci siamo facendo Passaggiati in là Tranquilli Tranquilli E niente Quindi quella È la zona Delle prigioni Qua c'era Il warp Come potete vedere Non c'è più Perfetto Adesso intanto Abbiamo fatto un pochettino Più di punti Ci vorranno infiniti punti Per salire di nuovo Di livello E l'altra cosa Che vorrei farvi vedere È dell'altra Zona Appena qua fuori Cioè l'entrata Dell'aver guard In pratica Cioè di qua Che è stata resa Abbastanza più facile Perché Ok Stavo scherzando Mi sono salvato Con la cura Proprio No È stata resa più facile Una parte Di quella Perché Non so se vi ricordate All'inizio Dove c'era La zona dei libri Cioè questa zona qua Prima c'era uno scheletro E adesso Non è stato più inserito Non c'è più Prima c'era uno scheletro In questa zona qua Adesso non c'è più Lo scheletro E quindi Per questo Da questo punto di vista È stato reso più 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 semplice Questi erano dei libri Che comunque avevo già letto E L'unica cosa È che Non avendo i warp È molto più complesso Per esempio Se bisogna Vendere qualcosa O comprare qualcosa Perché una volta Entrati qua Bisogna poi Dopo rifare tutta la strada Per tornare indietro E Ah L'altra cosa Parlava sempre di serie Maddox Aspetta che leggiamo Ah Quindi era uno di Avergal Quindi c'è stata una Una piaga E Il Sire Ivan Maddox Si è In pratica Preoccupato lui Di combattere Questa Questa piaga Partendo anche Dei chierici Di tutti gli angoli Del mondo Ma Trovarono la cura Troppo tardi Infatti Sirevan Maddox Come potete Ho ben letto prima È È morto Credo che A questo punto Questo video Possa finire anche qui Perché Non c'è niente Di Di più Da aggiungere Vi farò Farò il prossimo video Poi quando riesco A sconfiggere Un'altra zona Non è detto Che io riesca A fare Il video Esattamente Per la prossima Per la prossima settimana Perché avrò bisogno Comunque di un po' di tempo Magari di salire Di un altro livello Per riuscire A A pulire del tutto L'altra zona Che penso sia Quella della biblioteca Visto che O della prigione Al massimo Visto che Come avete potuto Constatare La zona Dell'altra volta È di difficilissimo Accessso Ora come va Quindi Io vi saluto Vi invito a mettere Un mi piace Qua sotto In modo che possano Salire un pochettino Di visualizzazione Questi video Ringrazio Siamo arrivati Da 6 iscritti Sono un piccolo numero Ma Sono contento Perché all'inizio Non credevo neanche Di poter Avere degli iscritti E Niente Grazie a tutti Della visione E ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 ciao